Salve a tutti ragazzi, io sono Davide e benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere come far lampeggiare dei led a ritmo di musica utilizzando un tip 31, un transistor di potenza media. Andiamo a vedere quindi i materiali che ci occorrono. Ci serviranno 4 led alta luminosità, un tip 31 appunto, una batteria da 12 volt e appunto dei cavi per il collegamento e un jack appunto da collegare a un'uscita audio, una qualsiasi uscita audio. Quindi andiamo a collegare il più della batteria al primo led, al più del primo led, i led devono essere messi in serie e il meno dell'ultimo led deve essere collegato al collettore. Questo qui è il collettore del transistor. Questo qui è l'emettitore, l'emettitore deve essere collegato al meno della batteria. La base invece, che è il primo pin, quindi primo pin, secondo pin e terzo pin, il primo pin e la base deve essere collegato al più dell'uscita audio e il meno dell'uscita audio deve essere collegato all'emettitore, che andrà a massa. Quindi, grazie a questo circuito, potete far lampeggiare i vostri led a ritmo di musica. Per questo video è tutto, mettete un like, un saluto, al prossimo video.